Una notizia di cronaca fermato sulla A14 con 4 kg di cocaina è accaduto nei pressi del casello autostradale di Città Sant'Angelo agenti della Polizia Stradalt ad una autovettura con a bordo un cittadino straniero di 25 anni incensurato. Nell'approfondire il controllo, grazie all'aiuto di Ayrton, cane antidroga della squadra cinofili della questura di Pescara, si rinvenivano occultati all'interno dell'abitacolo 4 kg di cocaina e contanti per 42.000 euro. Il stato è indagato per detenzione e traffico di sostanza stufefacente.